Ieri abbiamo terminato con un esercizio che non non riuscivo a fare era cercare di far ruotare il gattino su se stesso utilizzando il utilizzando ma si sente bene a meno male vabbè se si sente bene allora posso parlare allora ieri abbiamo finito l'ultimo esercizio che abbiamo fatto era quello del gattino che deve girare su se stesso andando a utilizzare a sfruttare il blocco ripeti fino a quando ripeti fino a quando si inserisce la condizione la condizione non si avvera è un blocco che io volevo provare a utilizzare per realizzare quell'esercizio lì che avevamo già fatto con altri sistemi però non siamo non sono riuscito a utilizzarlo perché il valore di punta in direzione il valore di direzione una volta fatti 360 gradi quindi arrivato al valore di 360 non continua ad aumentare ma si resetta e va a zero ok quindi non sono riuscito a realizzare quel blocco o meglio non sono riuscito a realizzare quello script e insomma abbiamo finito in serata o in mattinata non ricordo in serata mi sembra ieri mi ha scritto ho detto se qualcuno ha una soluzione da propormi mi scrive me la proponga ieri mi sembra sul gruppo telegram di mondo computazionale che è la community che io cerco di portare avanti per darci per darci tutti quanti supporto in quello che è lo sviluppo con scratch lo sviluppo in generale per chi sta imparando a programmare l'informatica eccetera mi ha scritto una persona tale ho segnato il nome gabriele piga che è stato gentilissimo è stato gentilissimo perché mi ha proposto una soluzione fatta da lui per risolvere il problema per fare quello che ieri cercavamo di fare andando a utilizzare solo i blocchi che avevamo a disposizione e ci è riuscito quindi io adesso vi mostrerò prima vi mostrerò a breve la sua soluzione per farvi vedere come andando a ragionare ad analizzare il problema si possa spesso riuscire ad aggirare quello che è l'ostacolo quindi mi interessa mostrarvi la sua soluzione che è molto intelligente ma soprattutto questo è il migliore esempio in assoluto che potessi mai farvi per farvi capire quanto avere una community far parte di una community sia importante qualunque sia l'argomento ma soprattutto nell'informatica in cui lo scambio di idee l'analisi anche semplicemente come dicevo ieri descrivere il problema a qualcuno è fondamentale in questo modo ci si può supportare io ho avuto un problema lui è entrato nella community per spirito di supporto non è entrato nella community per farmi lo sfregio che luce è riuscito io no no è entrato per condividere quell'informazione con me ed è esattamente lo spirito giusto lo spirito con cui bisogna fare queste cose la condivisione è il supporto reciproco è importante è importante per imparare a ragionare in un certo modo è importante per condividere le informazioni ed è importante per tutto quello che che può servire per andare avanti in questo campo anche semplicemente un'informazione una news qualunque cosa io vado leggo che è uscita una nuova tecnologia è uscito anche semplicemente relativo a scratch è uscito un nuovo sistema un aggiornamento della piattaforma lo condivido e così se ne può parlare io grazie alla community mondo computazionale di telegram ho avuto un sacco di informazioni dai ragazzi perché nella community c'è di tutto ci sono insegnanti ci sono adulti ma ci sono anche un sacco di ragazzi ragazzi delle scuole superiori qualcuno anche delle scuole medie sono le informazioni girano c'è un flusso di informazioni io stesso a volte sono stato aggiornato di quelle che erano le nuove uscite proprio da loro quindi partecipare far parte di una community è importantissimo ed è per questo che tra pochi giorni spero metterò online il sito con un forum per poterci scambiare informazioni condivisioni e aiuto perché voglio mettere il forum al posto del gruppo telegram perché in questo modo tutte le informazioni che vengono date tutti gli aiuti che verranno dati possono rimanere online e possono essere riletti da chi ha magari lo stesso problema quindi senza bisogno di andare poi a chiedere aiuto a qualcun altro quindi questo era quello che volevo dirvi adesso passiamo su scratch tra tra connessione che non funziona e e descrizione di questa cosa insomma abbiamo anche perso un pochino di tempo quindi passiamo subito su scratch e vi mostro la soluzione di gabriele che devo dire che è molto valida ed è molto interessante ora ora il fatto qual era bisognava far girare il gattino di 360 gradi quindi facendo fare solo un giro su se stesso bloccandolo a fine a fine giro utilizzando solo il blocco controllo ripeti fino a quando o scusate non utilizzando solo questo blocco però utilizzando questo come sistema per fare le ripetizioni come ciclo non il ciclo infinito e non il ciclo ripeti tot volte avevamo detto che dovevamo usare questo blocco qui quindi situazioni quando si clicca sulla bandierina verde andiamo insomma a dare le varie definizioni movimento il gattino deve ruotare quindi usa stile rotazione può ruotare gli diamo anche il punto di partenza senza problemi vai a 00 e poi punta in direzione ok vado indietro e questo lo colleghiamo punta in direzione ora non vi mostro subito la soluzione vi rimostro quello che il problema e poi vi mostro la soluzione di gabriele quindi il problema era questo punto in direzione se io vado e gli dico ripeti fino a quando avevamo detto fai ruota di 10 gradi e ripeti fino a quando direzione non è uguale a 90 direzione non è uguale a 90 ruota di 10 gradi ora avevamo visto che questo sistema non funziona perché perché se io parto da 90 e ripeto questo comando ruota di 10 gradi finché direzione non è uguale a 90 siccome all'inizio all'inizio prima di iniziare a fare le ripetizioni direzione è già uguale a 90 non ripeterò questo blocco neanche una volta allora cosa avevamo fatto avevamo detto ma facciamolo partire da 91 è quasi la stessa cosa lo facciamo partire da 91 e gli diciamo ripeti fino a quando direzione è uguale a 90 ruota di 10 gradi in questo caso avevamo visto che bandierino verde il gattino non smetteva mai di girare perché perché 91 più 10 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 non arriverà mai a valere 90 varrà sempre un numero che non sarà mai 90 infatti arriverà a valere tutt'al più alla fine di tutto il giro dopo aver fatto 360 gradi siccome parte da 91 varrà di nuovo 91 ed ecco l'intuizione il ragionamento intelligente di gabriele si chiama gabriele si non vorrei non vorrei sbagliare sbagliare il nome mi sembra di sì il ragionamento è stato questo ha detto se io lo faccio andare avanti di 10 per volta e lui arriva a valere 91 punto parte da 91 io controllo che lui si blocchi quando arriva 90 quindi non ottengo mai lo stesso numero però all'interno di questo ciclo prima di farlo andare avanti posso fare un ulteriore controllo perché noi abbiamo a disposizione il blocco se allora e quindi lui che dice se siamo dentro il ciclo ogni volta che entriamo qua dentro la direzione viene aumentata di 10 e lui dice se se la direzione che già mi permette di continuare con i cicli continuare con il ciclo e ripeti fino a quando finché non arrivo a 90 mi sta facendo entrare io dico operatori uguale se direzione eccolo qua è uguale a 91 quindi se ho fatto 360 gradi perché alla prima ripetizione 90 non varrà 91 90 viene scusatemi alla prima ripetizione 91 cioè allora all'inizio la nostra direzione vale 91 ripeti finché direzione uguale a 90 non è uguale a 90 perché vale 91 quindi entro dentro è l'aumento di 10 quindi 91 passerà a 101 e così via fino ad arrivare a 0 e fino a tornare a valere 91 e qui che entra in gioco questo controllo e dice se vali 91 vuol dire che tu hai già fatto un giro perché già dalla prima volta che noi entriamo nel controllo tu sei già stato incrementato e quindi se direzione è uguale a 91 se direzione è uguale a 91 questo forse potrebbe essere messo vabbè adesso vediamo se direzione è uguale a 91 allora punta in direzione quindi cambia il valore di direzione punta in direzione operatori matematici e gli diciamo direzione meno 1 quindi da 91 torna a 90 e quindi basta ti blocchi vediamo un pochino eccolo qua vedete andiamo a fare un solo giro parto da 91 e arriviamo fino a 90 perché da 91 faccio tutto il giro ritorno a valere 91 se qui scrivo se direzione è uguale a 91 allora diminuisce la di 1 diminuendola di 1 vado a rendere vera questa condizione qui e esco dal ciclo ora devo dire che ammetto di non averla spiegata benissimo questa cosa però se insomma ci ragionate un pochino su noterete che questa questa soluzione è molto valida è molto valida perché avevamo solo questi strumenti a disposizione e quindi complimenti complimenti a Gabriele per quello che mi ha suggerito e direi che è un'ottima è stata un'ottima occasione per dirvi quanto è importante la community non smetterò mai di ribadirlo quindi questa è una cosa ieri sera tra l'altro questo l'ho pensato io mi ha dato un po' fastidio il fatto che non vi abbia mostrato come far girare il gattino attorno a un elemento in effetti per fare un movimento curvo sarebbe servito eventualmente un'altra variabile però in realtà ho visto anche perché io qui non mi preparo niente faccio le cose in tempo reale quindi a volte ci sono delle cose che vanno viste con più calma rispetto a quella che ho a disposizione quando vi mostro le cose e quindi con tutta calma ieri sera sono andato a riguardarmi il codice per fare quello che che era stato chiesto io ho visto che anche quello si può fare quindi facciamo girare il gattino attorno a un eventuale oggetto quindi carico un altro oggetto la palla la metto qua il gattino gli dico di partire un pochino più spostato se no non ha lo spazio ok no meno 100 ok e gli facciamo fare il giro quindi punta in direzione 90 che è una partenza una partenza insomma normalissima e gli diciamo controllo tranquillamente per sempre e come dove sta il il gioco gli diciamo fai un passo e ruota fai un passo e ruota fai un passo e ruota in questo modo riusciamo riusciamo a fargli fare una curva bisogna vedere di quanto lo facciamo camminare di quanto lo facciamo ruotare abbastanza ripida da girare attorno a un elemento noi possiamo far camminare il gattino con lo strumento fai passi sul suo asse e con lo strumento ruota possiamo cambiare il valore di quell'asse e quindi possiamo ottenere quello che quello che è la nostra esigenza quindi molto semplicemente qui gli diciamo fai passi e qui ruota ruota di ora la parte difficile è riuscire a dargli il giusto numero di passi e il giusto numero di gradi di cui ruotare se io clicco la bandierina verde così vedete gira praticamente su se stesso quindi che faccio gli faccio fare dei passi io l'ho provato ieri e ho visto che facendogli fare 5 passi e ruotando di 2 gradi dovrei riuscire a ottenere l'effetto che cercavo bandierina verde ok gli do un punto di partenza diverso perché così insomma non si vede allora gli dico parti da 0 e parti da 100 ok in questo modo vado a farlo girare attorno a un elemento come avevamo detto quindi la logica dove sta? sta nel fatto di fargli fare una piccola un piccolo spostamento sul suo asse e poi di inclinare l'asse se questi due valori vengono messi sufficientemente piccoli io ieri ho solo fatto delle prove ieri con lo streaming spento ho preso il codice l'ho scritto e ho fatto delle prove ho messo 5 ho messo 6 ho messo 10 ruota di 2 ruota di 5 ruota di 10 semplicemente facendo delle prove sono arrivato a questa conclusione quindi non è stata una grande logica ho solo fatto ho solo fatto degli esempi pratici e ho visto e ho visto fin dove poteva andare fin dove potevo spingermi con i valori per ottenere la quello che quello che era il il mio obiettivo ok quindi questo è diciamo un piccolo una delle piccole correzioni per quella che è stata la fine del video di ieri mi sembrava giusto soprattutto ringraziare Gabriele per per lo script che mi ha mandato ok quindi andiamo andiamo avanti questo lo prendo lo posso anche buttare la palla la posso buttare e vediamo un po' voglio provare oggi a fare un po' di interazione con quelli che sono gli elementi esterni quindi eventualmente la tastiera il mouse ma soprattutto introdurre un nuovo blocco che permette appunto di dialogare con con l'utente è un blocco molto carino perché è semplice da usare ma allo stesso tempo è molto potente permette quindi di fare tante piccole cose carine che possono servire possono possono far comodo quindi il blocco che vorrei mostrarvi è sensori sta dentro sensori ed è chiedi e attendi cosa fa questo blocco questo blocco vi permette di parlare con l'utente che va a utilizzare il vostro progetto chiedi e attendi vi permette di andare a fare una domanda all'utente l'utente avrà una casellina per rispondere da tastiera e noi avremo una scattolina quindi una variabile le famose pillolone quelle che abbiamo usato anche ora con che conteneva la direzione del del gattino in questo caso conterrà quello che scusatemi conterrà quello che quella che è stata la risposta dell'utente e si potrà utilizzare quella risposta per fare qualcosa ora ve lo mostro quindi il blocco è questo chiedi e attendi situazione quando si clicca sulla bandierina verde mettiamo a posto il gattino che è tutto rovesciato diciamo dimensione direzione gli diciamo 90 ok la posizione può andare bene questa ok e diciamo quando si clicca sulla bandierina verde chiedi e attenti cosa vogliamo che il gattino chieda all'utente come ti chiami ciao virgola come ti chiami ok noi che facciamo prendiamo poi la risposta dell'utente anzi vi mostro prima cosa accade solo con questi due blocchi mettiamo tutto schermo bandierina verde ecco qua ciao come ti chiami e qui sotto compare un modulo per poter scrivere quindi per poter interagire col programma l'utente potrà interagire col programma quindi ok come facciamo noi a recuperare quello che il nostro utente andrà a scrivere nel programma con una variabile quindi con una scatola che conterrà quel valore e cioè risposta quindi quello che l'utente andrà a scrivere dentro quel modulo lì noi ce l'avremo dentro risposta risposta è la nostra solita scatolina il pillolone che contiene le informazioni questa volta non conterrà un numero ma conterrà qualunque cosa l'utente decida di scrivere sulla tastiera siccome si tratta di una variabile noi possiamo mettere la nostra scatolina all'interno di qualunque altro blocco accetti questo tipo di informazione quindi possiamo andare su aspetto e dire di qualcosa per due secondi quindi per esempio ciao però qui ci fa scrivere solo ciao non ci fa inserire non ci fa unire le due frasi quindi io posso eventualmente inserire soltanto il nome o soltanto la risposta che l'utente ha scritto da tastiera quindi se faccio così bandierina verde ciao come ti chiami Mario clicco qui sul pulsante blu oppure premo invio sulla tastiera e lui riscrive Mario perché io gli ho passato la risposta dire risposta per due secondi sarebbe bello poter unire più stringhe quindi più frasi per comporre una frase che possa contenere quella variabile e noi lo possiamo fare andiamo su operatori e gli diciamo vedete c'è questo blocco verde che dice zoom un po' di più unione di parola e parola io ho questa unione vedete che ha la stessa forma ha la stessa forma della variabile e la stessa forma dello spazio che ci dà a disposizione questo blocco dire bene io la butto qua dentro ed ecco qua quando si clicca sulla bandierina verde chiedi ciao come ti chiami e attendi quindi questo blocco tutto quello che segue non verrà eseguito finché l'utente non risponderà perché c'è questa parte qui attendi dire poi l'unione di ciao spazio e risposta per due secondi vediamo il risultato bandierina verde ciao come ti chiami Mario ciao Mario quindi abbiamo avuto modo di interagire col programma il programma ci chiede delle cose noi rispondiamo e possiamo poi andare a elaborare la risposta quindi ricordiamoci che abbiamo a disposizione dei blocchi per fare dei controlli quindi possiamo scrivere delle cose anche o meglio possiamo scrivere un codice più complesso facciamo un altro esempio questo lo tolgo o meglio lo lascio qua sotto vediamo cosa possiamo fare io prendo uno dei nostri blocchi per esempio se allora e lo collego qua sotto facciamo un'altra domanda ciao virgola mi sai dire di che colore era il cavallo bianco di Napoleone ok vado indietro con lo zoom ancora ciao chiedi chiedi ciao mi sai dire di che colore era il cavallo bianco di Napoleone e attendi attendi la risposta qui abbiamo un blocco che può controllare delle cose abbiamo controllato solo dei numeri fino a ieri ma oggi vediamo che possiamo controllare anche altre cose quindi io questo contenitore che contiene la risposta inserita dall'utente ho il blocco uguale che controlla che due elementi siano uguali e dico se risposta è uguale a bianco allora gli dico dire bravo la risposta corretta è proprio bianco ok vediamo cosa abbiamo ottenuto anzi vi leggo prima il codice quando si clicca sulla bandierina verde quando si clicca sulla bandierina verde chiedi ciao mi sei dire il colore ciao mi sei dire di che colore era il cavallo bianco di Napoleone e attendi se la risposta è uguale a bianco allora devi dire bravo la risposta corretta è proprio bianco per due secondi quindi bandierina verde ciao mi sei dire di che colore era il cavallo bianco di Napoleone e io scrivo bianco invio la mia risposta bravo la risposta corretta è proprio bianco perfetto se io vado a scrivere invece una risposta sbagliata bandierina verde ciao mi sei dire che colore è il cavallo bianco di Napoleone nero invio non accade nulla perché non abbiamo scritto nessuna regola per dirgli di dire qualcosa nel caso che la risposta sia sbagliata e come potremmo fare a fare ciò se la logica è se la risposta è uguale a bianco di questo quindi se è uguale allora di questo di bravo altrimenti altrimenti se risposta non è uguale a bianco di un'altra cosa e quindi controllo questo blocco abbiamo visto che esiste se questo è vero allora fai qualcosa altrimenti fai qualcos'altro quindi questo lo lasciamo qui questo lo smontiamo e andiamo a montare quest'altro blocco che dice se risposta è uguale a bianco devi dire bravo la risposta corretta è proprio bianco altrimenti duplico il blocco faccio più in fretta dire noo mi dispiace mi dispiace la risposta è sbagliata ok bandierina verde ciao mi sai dire di che colore era il cavallo bianco di Napoleone nero vediamo noo mi dispiace la risposta era sbagliata se io invece gli dico mi sai dire che colore era il cavallo bianco di Napoleone scrivo bianco vediamo un po' bravo la risposta corretta è proprio bianco quindi in questo modo possiamo andare a montare insieme determinate cose e possiamo fare anche un semplice quiz con delle risposte che possono essere di qualunque natura da insomma da mettere a disposizione degli indovinelli risposte anche di materie scolastiche per per far utilizzare scratch chiaramente ribadisco l'utente che utilizza scratch per rispondere alle domande non sta imparando coding sta solo usando scratch sta solo usando uno strumento che voi avete creato avete chiuso e che gli state facendo utilizzare non sta facendo coding non sta imparando niente se non la disciplina relativa alle domande che avete scritto se volete che qualcuno impari a scrivere del codice impari a usare scratch e a fare coding deve essere in grado di scrivere questo codice che io vi ho appena mostrato attenzione non cerchiamo di considerare bene questi fattori allora io esco un attimino da questa modalità perché voglio vedere la la chat perché non mi rendo conto se se siamo insomma visto che la connessione fa schifo se ci sono bollamentele che sta funzionando tutto male not mtth ciao ok sì mi sembra che stia andando tutto bene mi spiace che insomma che la connessione sia sia così pessima allora molto bene non ho nessun messaggio particolare possiamo tornare a scratch bene quindi questo è un modo per utilizzarlo e se io volessi scrivere una serie di domande allora ricordatevi noi in questo momento stiamo lavorando con pochi strumenti scratch ci offre molti più strumenti di quelli che noi stiamo usando ora solo che vorrei fare un po' di pratica nell'utilizzo di questi strumenti per per capire per vedere come come gestirli e come imparare a usarli un pochino insomma un po' meglio quindi alcune cose che andremo a fare magari si potrebbero fare in maniera un pochino più elegante con altri strumenti utilizzando anche altri strumenti di supporto però noi ancora non li abbiamo visti quindi ci limitiamo per adesso usare quello che conosciamo e quindi questo lo buttiamo via questo lo buttiamo via e vediamo un pochino se io voglio fare un quiz con più domande io ho fatto qui una domanda una risposta e poi il feedback sulla domanda data se io ne volessi fare più di una una dopo l'altra una dopo l'altra volessi fare cinque domande come potrei fare? ovviamente prendendo tutto questo blocco duplicandolo e mettendolo per cinque volte sotto duplica vedete non so se riuscite a vedere bene dallo streaming ma io ho una due tre quattro domande una dopo l'altra e posso tranquillamente scrivere quattro domande diverse in questo modo possiamo andare a creare una sorta di quiz in sequenza non abbiamo ancora gli strumenti per memorizzare le risposte giuste delle risposte sbagliate per sapere alla fine del quiz quante risposte giuste o sbagliate sono state date perché non abbiamo ancora visto come memorizzare noi le informazioni lo vedremo per adesso voglio semplicemente mostrarvi come andare a incastrare al meglio questi questi blocchi se se allora se allora se allora altrimenti e i vari cicli quindi quindi stai e a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.